Ad oltre un mese dall'uccisione del giovane Davide Bifolco torna la paura nel rione Traiano di Napoli. Nel giro di 48 ore due episodi violenti hanno portato al ferimento di altrettante persone. Nel primo, in zone limitrofe a Rione, è stato coinvolto un uomo di 39 anni, mentre ieri sera tra le 19 e le 20 un giovane di 25 anni, Vincenzo Paracolli, originario del vicino quartiere Soccavo, è stato ferito ad una gamba durante una sparatoria. Prontamente soccorso, è stato trasportato nel vicino ospedale San Paolo, dove le sue condizioni sono apparse ai medici che lo hanno tenuto in visita non gravi. Ancora una volta, l'area flegrea della città risulta essere ad alto tasso di criminalità e viene posta al centro della cronaca nera cittadina. Dopo essere stata al centro dell'attenzione nazionale per le manifestazioni degli abitanti del quartiere a causa della morte di Davide, avvenuta in un conflitto a fuoco con un militare dell'arma dei carabinieri, oggi Rione torna a far parlare di sé per episodi che, per fortuna in questi casi e in entrambe le occasioni, non hanno portato a termine il proprio scopo.